Inquadrata in tutta la sua bellezza, in tutta la sua simpatia, la nuova reginetta della serata di Miss Adriatico, Rossella Calderoni, eletta in Piazza dei Pini a Silvi Marina. Intanto raccontiamo l'emozione di questa esperienza che ti ha visto primegiare tra 24 ragazze italiane e straniere. È tanta, l'emozione è enorme, tantissimo, grande, 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 grande. Una serata che ha avuto un valore doppio perché è dedicata all'Ucraina, al popolo ucraino che sta patendo una brutta guerra, una brutta situazione. Non a caso in Passerella ci sono state diverse ragazze ucraine. Tutte bellissime tra l'altro, tutte bellissime ragazze, belle, brave, ma... Cantanti ucraini, balletti ucraini, è stata davvero una serata ricca di emozioni. Che cosa ricorderai di questa esperienza? Ricorderò tante cose, ricorderò la vagnuccia che non c'è più, che gliela dedico. La fotoreporter che purtroppo è scomparsa anzitempo. Sì, perché lei ci credeva tanto, lei ogni volta che stava lì in mezzo alle ragazze ci credeva tanto, quindi la dedico soprattutto a lei, poi ovviamente ai miei genitori e tutto quanto, però è stata una bellissima serata. Sei giovanissima ma ormai hai tanta, tanta esperienza sulle passerelle. Ecco, che emozioni ti provoca ogni volta a sfilare in Passerella? Ogni giorno un'emozione diversa, poi dipende anche, vabbè, noi abbiamo comunque un bel rapporto tutte quante insieme, è bello perché stai sempre lì e stacchi, come dice, la spina, nel senso che ti rilassi e fai una cosa per te stessa soprattutto. Per coloro che ti guardano per la prima volta, che tipo di ragazza è Rossella Calderoni? Pregi e difetti della nuova reginetta della serata, eletta a Silvi Marina? Allora, i pregi, credo che ne saranno pochi, sto scherzando, pregi che mi piace fare cose in gruppo, sono molto disponibile con tutti, quindi aiuto. Difetti ce ne sono, però me li vorrei tenere per me, però fa bene. Prima di chiudere, che cosa sogna di fare Rossella Calderoni nella vita? È giovanissima, quindi ha tutta la vita davanti a sé. Io sogno che comunque è un mondo migliore sicuramente, però per me stessa di realizzarmi per i miei obiettivi e quello che mi piacerebbe fare. Questa vittoria a chi lo dedica? Lo dedico ai miei genitori, al mio ragazzo, a Vagna e soprattutto a quelli che credono un pochino in me, però soprattutto a me stessa, perché personalmente aiuta tanto. In bocca al lupo. Grazie.